Io ho vissuto in Spagna molto tempo, quindi la notte è il nuovo orario, però ora stiamo in Italia e abbiamo l'Italia. Buonasera a tutti, mi chiamo Bottiglieri Chetano, nato a Napoli, ho 43 anni, residente a Versa. È stato bello venire qua perché è un'esperienza nuova, da tanto tempo, da piccolo, sempre la cosa di recitare, già alle scuole elementari ho fatto dei provini. È sempre piaciuto recitare con amici, sempre da piccolo siamo cresciuti nei piccoli di Napoli, di Barra, San Giovanni, sempre recitare, recitare. E oggi ho questa occasione grazie a Maden Sud che vedo sempre tutte le volte e mi piacerebbe fare qualcosa sia nel futuro, adesso siamo qua a divertirci grazie a Maden Sud. Comunque per raccontare, appena è entrato, mi stavo già facendo un po' di casino con la ragazza, ha detto filmami la Liberatoria, stia Liberatoria. Cosa Liberatoria, sapete, ti dà diritto che ti fanno le fotografie e cose. Ti sento, non è come fanno qualche contratto, ti sto prendendo la disoccupazione, vorrei dire cittadinanza. No, 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 è tutto a posto, hai detto, vabbè, ho firmato e sono venuto qua. Poi, a Schede ce l'ho a casa perché si arrobano, hanno fatto prima furto a Marano, venga la casa, non esiste però. A Marano hanno fatto ship e comunque da piccolo sempre sono stato un attore io. Da sala operatori e già prima scia, ma chi la scia? Che è la cosa là, eh? Fa sicuro no. Prima la scia già erano attori, a giudicare, a rire, ma proprio a piangere, a piangere una cosa proprio che a nessuno mi poteva mantenere. Ho telefonato in mano, sai che a me i video mi fanno i video youtube, quella che là, ma c'è orsi, e a piangere, a piangere. Perché ti agnevo? Perché volevo l'altra, la ginecologa, già si fa tutto così, volevo l'altra sua, già erano attori. Poi, queste lezioni qua, ieri se sono state le lezioni, no? E' successo, cioè parlando di bambini, è successa una cosa bruttissima. Hanno arrestato un bambino di tre anni, bambino di tre anni, che aveva fatto il suo aglio? Sei una cenecomista, sai? Io qua non sono venduto, io, se venite con me vi prometto questo, vi prometto quello. Io non sono venduto, è bello e buono il suo aglio nei tre anni, dice, tu non sei venduto, allora ti compro io. Il suo aglio è innocente, non sapeva che voleva, dice, è bello e buono il resto, ne ha chissi. Chiamano il padre, dicendo, ma che ha fatto questo miccio nel mio? E' chiesto, il consigliere, se va a fare cose sue, bello e buono, è chiesto, ma ti compro io. E tu che sai che tu non chiedi accattato a me?